Musica Musica Qui presentiamo il progetto Ognunidis Rinascimento vale a dire che sono alcune delle canzoni dei Beatles rivisitate in chiave rinascimentale arrangiate dal maestro Andrea Marzà che qui a nostra destra che sta riprendendo a tutti il complimento subito perché ha fatto degli arrangiamenti splendidi e docente il conservatore Curbini di Firenze ha fatto delle cose magnifiche Buon ascolto con i musici del gruppo anzi della società balestriere di Sansepolcro Vai con Beatles Day partiamo così Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.